Voglio intanto ringraziare Mara per questo ricordo commovente come quello di oggi anche espresso da Anna che hanno ricordato veramente tutti gli elementi caratteristici di questo amico e di questa persona veramente eccezionale. Poi ho avuto la fortuna quest'anno di partecipare 4-5 volte, di riflettere in varie occasioni di eventi, di commemorazioni che sono state organizzate in Francia, un po' dappertutto e l'occasione che mi si presenta oggi mi ha permesso di continuare in questa riflessione possibilmente senza ripetere cose che ho già detto, che ho già scritto, sulla natura del lavoro e sulla specificità pressoché unica delle competenze straordinarie che Paolo ha sempre messo in mostra, inducendomi ad approfondire i motivi per i quali durante la nostra collaborazione si sia creata un'intesa così proficua perché anch'io come Mara ho una formazione di storico, di filosofo e quindi ero neofita rispetto a una personalità invece che era un professionista, il grande professionista. E' che a mio avviso appunto questa, per continuare il discorso che Mara ha già iniziato, è che nel mondo della ricerca ormai è sempre più raro incontrare intellettuali che si distinguono per originalità e inventiva fuori dal mondo accademico e istituzionale che ha i suoi riti, le sue regole. Paolo è stato incontestabilmente uno dei massimi studiosi della storia degli strumenti scientifici, però ha svolto, come ha illustrato Anna benissimo stamattina, la gran parte della sua attività proprio iniziale, anche poi l'ha illustrata anche Fabio e Lucio hanno illustrato molto bene, in piccoli centri, non voglio diminuire l'importanza storica delle collezioni, però in piccoli centri e musei dove pur, tra l'altro non senza difficoltà, a volte molte, a volte gravi, ha potuto sperimentare con eccezionale creatività, perché questo aspetto secondo me è molto importante, nuovi modi di studiare, insegnare e comunicare, giustamente è stato messo in evidenza questo aspetto, la storia materiale della scienza. Parlo di storia materiale nel senso più alto del termine, perché Paolo non sapeva solo svolgere magistralmente il ruolo di conservatore e restauratore delle collezioni, che aveva sotto mano, che studiava, ma si è sempre preoccupato di contestualizzarne il significato storico e così ricostituire la relazione che si è persa nell'Ottocento, nelle politiche dei beni culturali promosse dall'Ottocento, tra gli archivi, le biblioteche e le collezioni museali. Paolo dunque combinava una cultura storica estremamente solida e una raffinata, molto raffinata, ad una destrezza manuale che quando era in vena lo trasformava in un vero e proprio prestigiatore. Era un po', non so, uso questo termine prestigiatore e poi tu hai mostrato il video in cui lui si presenta e dice che bisogna essere dei prestigiatori e allora ho detto, beh sì, allora forse anch'io lo conoscevo un po', l'ho conosciuto abbastanza bene perché effettivamente agli occhi di tutti quelli che lo vedevano lavorare gli strumenti è sempre apparso come un vero e proprio prestigiatore. Questa combinazione purtroppo non solo è rarissima da incontrare, ma non viene promossa, che io sappia, in nessun percorso di ricerca istituzionale, accademica o museale. Eppure è proprio dall'esempio che ci è venuto da Paolo che dipende la conoscenza, la salvaguardia e in moltissimi casi la sopravvivenza di collezioni di valore inestimabile, quindi è una condizione necessaria che, come ha messo in evidenza Mara, Paolo e persone come lui hanno continuato a promuovere, ma con grandissima difficoltà. Prima di addentrarmi brevemente sulle ricerche che abbiamo svolto in comune, vorrei richiamare alla memoria un'altra personalità che per molti versi trovo molto simile a Paolo e si tratta proprio di Maria Luisa Bonelli, che di questo museo è stata vice e poi direttrice per quasi 40 anni. Anche la Bonelli infatti aveva ben presente l'importanza di coniugare lo studio degli strumenti e delle collezioni museali con una ricerca di archivio che ne contestualizzasse il significato storico. Tra l'altro anche lei aveva una formazione molto particolare, quindi gli strumenti erano e sono parte essenziale della storia della scienza e mi piace ricordare anche qui che i suoi annali dell'Istituto, il Museo di Storia della Scienza, furono forse il primo periodico internazionale a promuovere un'ampia e sistematica riflessione a più voci, anche proprio a livello internazionale, su questo orientamento storiografico che gli è valso sul finire della sua carriera la Sarton Medal, che è il massimo riconoscimento internazionale per la storia della scienza. L'approccio della Bonelli, lontano dal considerare gli strumenti come emblemi esclusivamente da conservare, magari seguendo anche pratiche come quelle contemporanee che sfiorano talvolta il feticismo, si è distinta con il promuoverne il loro studio diretto. Per lei, come per Paolo, ecco qui volevo mostrare due esempi che richiamano un po' questo uso, studio, restauro, riuso e conservazione degli strumenti antichi costituivano aspetti complementari. La migliore conservazione di uno strumento infatti può discendere solo da una sua approfondita conoscenza, acquisibile anche dalla sua manipolazione, naturalmente esperta, e laddove possibile dal suo riuso. È una riflessione storica, è fondamentale e mi pare che questo sia importante. Tra l'altro, come richiamava Mara, non penso sia un caso il fatto che Mara abbia studiato, adesso lei lo saprà sicuramente meglio di me, visto che ha conosciuto la Bonelli, però tu hai lavorato con la Bonelli e poi oltretutto sei diventata anche la migliore amica di Paolo, avete lavorato insieme. C'è questa, diciamo così, anche una genealogia sorretta da questa istituzione che in qualche modo ha favorito questo incontro e questa collaborazione che tu hai descritto così bene. Ora dirò qualche parola dedicata alla collezione Lavoisier, su cui io e Paolo abbiamo lavorato pur cominciando questo progetto alla fine degli anni 90, però abbiamo lavorato soprattutto negli ultimi 5-6 anni e che ha rivelato e dimostrato molto bene, a mio avviso, quali sono i rischi di un approccio ultraconservativo in una collezione di museo e al contrario le virtù del metodo che Paolo ha sempre promosso nella classificazione e nello studio delle collezioni degli strumenti scientifici, tracciando così un approccio storiografico a mio avviso molto innovativo che lo ha reso, diciamo così, chiaramente attraverso, lo vediamo attraverso tutti questi eventi che vengono organizzati proprio come una personalità di spicco. Allora descrivo un po' brevemente questo progetto, la natura di questo progetto, i cui risultati sono stati pubblicati qualche mese fa nel catalogo che abbiamo scritto insieme. È un progetto che è iniziato nel 2016 che investe un numero di oggetti molto importante della collezione di questo chimico francese, quindi della seconda metà del 700, 680 oggetti, che ha previsto una inventariazione, catalogazione scientifica iniziata nel marzo del 2017. Ci sono stati molti restauri di tipi differenti, in cui Paolo ha sempre dato dei suggerimenti, ma che si è confrontato con un'equipe che al Musee des Arts et Métiers è molto importante, il Musee des Arts et Métiers è un'istituzione di cui non esiste l'analogo in Italia solo per la quantità e la vastità della collezione che tocca quasi 100.000 oggetti, quindi si tratta proprio di un museo enorme. Come vedete ci sono stati restaurati 37 strumenti particolarmente in condizioni non buone, sono stati dati all'esterno, c'è stato lavori di anossia dinamica su 26 oggetti e poi c'è stato il restauro promosso dall'Institut Nationale du Patrimoine per 115 oggetti e 550 oggetti sono stati restaurati alla riserve del Musee des Arts et Métiers a Saint-Denis sotto l'occhio vigile anche di Paolo. C'è stata una campagna fotografica e anche la campagna fotografica perché Paolo faceva le fotografie di tutte le collezioni che aveva, deve avere un archivio nel suo computer incredibile e quindi lui dava le istruzioni su come fotografare l'oggetto prima che venisse restaurato e poi come doveva essere fotografato dopo come è apparso nel catalogo. Quindi un lavoro molto complesso. Però per tornare alla questione che ho sollevato prima perché è stato oggetto anche qua di piacevole conversazioni a pranzo, a cena, così in maniera molto simpatica anche con lo staff del museo, vorrei toccare il tema dell'uso, del riuso, della conoscenza attraverso l'uso, quindi di non avere un approccio molto diretto con queste collezioni, con questi oggetti che ha permesso l'identificazione di strumenti molto importanti. Comincia da questa batteria di bottiglie di Leida, di 64 bottiglie di Leida che era in condizioni un po' malmesse e che aveva un numero di inventario che qui vedete 20114 e poi da tutt'altra parte nella riserva c'erano questi conduttori a piume metalliche di cui sia per la scheda che era stata fatta sia i curatori non sapevano niente. Vorrei sottolineare il fatto che la collezione Lavoisier non è che sia stata catalogata o inventariata da dilettanti, è stato Maurice Dumas che è uno dei più grandi costruttori studiosi degli strumenti scientifici che ha scritto forse la più importante monografia sulla storia degli strumenti scientifici pre-Ottocento e Douglas McKee che era professore di storia della scienza a King's College e anche lui è stato uno dei grandi maestri della storia della scienza inglese, quindi ci confrontavamo con persone di grande competenza anche per gli strumenti scientifici, però in tantissimi casi le schede diciamo così non corrispondevano e poi c'erano tantissimi frammenti. Allora Paolo ha visto questi conduttori, ha pensato cosa devo fare, come ha descritto esattamente precisamente Anna, sto lì, ci penso, faccio il disegno, faccio la foto, ci ripenso e poi trova la soluzione grazie appunto a documentazione che avevamo entrambi, qui erano alcune foto della collezione Lavoisier quando era ancora nelle mani degli eredi, vedete la batteria delle bottiglie di Leida sotto la macchina elettrica di Ramsden e poi soprattutto si vede questa tavola di Joseph Priestley, contemporaneo di Lavoisier, che è proprio la mostra con i conduttori metallici e qui il disegno di Paolo che dice che i conduttori metallici vanno collocati sulla batteria in questo modo e dava proprio le istruzioni, vuoi con una foto, vuoi con il disegno, ai curatori per collocarlo e il risultato poi dopo il restauro vedete dell'evoluzione dello strumento. Mostro brevissimamente, anch'io non mi voglio dilungare, un altro strumento ricostituito, questo era un po' più difficile perché i pezzi, come vedete con numeri di inventario, si trovavano in vari posti, in varie teche, che però frequentavamo tutti i giorni e Paolo vedeva, ma questo è un imbuto di vetro, un recipiente cilindrico, che descrizione è? Non dice niente di quello che può essere questo strumento e piano piano, diciamo così, qui ha proprio lavorato solo lui perché lui conosceva benissimo, diciamo così, le collezioni che ha studiato antecedentemente a Pavia, lui vede che questo, diciamo così, è uno strumento, questi tre elementi, la macchina per esperienza elettrica, perché queste sono le descrizioni che sono state date dai curatori francesi, in realtà sono pezzi della lampada a idrogeno di Volta, che lui aveva catalogato, che lui conosceva bene e che tra l'altro illustra un capitolo molto importante della storia di Lavoisier, perché Volta è passato a Parigi e ha ceduto, ha dato o ha venduto a Lavoisier diversi strumenti che appunto sottolineavano l'expertise del naturalista italiano e anche il suo desiderio di intrecciare delle relazioni con Lavoisier. Anche qua, mentre la ricomponeva, poi la voleva anche mettere, diciamo, vedere se funzionava, se tutte le componenti meccaniche funzionavano e tutti i curatori erano abbastanza, diciamo così, terrorizzati di eventuali rotture che non si sono mai verificate, nonostante… mai, mai, anzi, questo è stato il modo e l'unico modo per recuperare degli oggetti che invece si stavano deteriorando, perché questo è il fatto, la conoscenza, la manipolazione delle collezioni, il loro uso poi alla fine le determina la conservazione. Finisco con delle parole di Paolo che, diciamo, è venuto a dirci, prendo proprio dal suo PowerPoint, quando l'ho invitato, c'eri anche tu Andrea Aravenna, a tenere le lezioni in un corso di studio di restauro, dove sono riuscito a fare entrare la storia della scienza come insegnamento obbligatorio, perché la storia della scienza e gli strumenti scientifici, come avete illustrato voi tutti oggi, hanno una specificità che ci voleva molto tempo perché venisse riconosciuta e quindi Paolo ha fatto delle lezioni sulle quali appunto ha dato le sue idee sul restauro, sono già state richiamate. Queste sono proprio parole scritte da Paolo, il restauro tende a riportare lo strumento in uno stato ideale, che ha anche un elemento, diciamo così, polemico, ideale tra virgolette. La conservazione preserva quanto esiste e rimuove le cause del degrado. Il restauro di un oggetto implica una profonda conoscenza dell'oggetto stesso. Il restauro deve essere reversibile, la reversibilità, certo, questo, o comunque non deve ostacolare futuri interventi. Restauri malfatti o eccessivi sono generalmente più deleteri del normale degrado che gli strumenti subiscono per la normale opera del tempo. Restaurare uno strumento non vuol dire ripararlo, regola auree anche oggi, nel dubbio non fate niente e infatti molti se ne guardano bene. Il restauratore ideale deve, qui secondo me è abbastanza importante, è stato richiamato ancora nelle relazioni di prima, conoscere la scienza dei materiali e le tecniche del restauro, ma conoscere perfettamente lo strumento sul quale interviene sia dal punto di vista tecnico costruttivo e funzionale, sia da quello storico. Cioè la storia non è qualche cosa di… è fondamentale… accessorio, è fondamentale decomplementare, così come la conoscenza degli elementi materiali. Possedere un'eccellente manualità, qui sappiamo tutti che Paolo è stato il maestro, avere sviluppato una sensibilità particolare relativa agli oggetti su cui si interviene, su cui si interviene. Annotare accuratamente tutti gli interventi, operazioni, materiali utilizzati. Ora so che probabilmente Riana farà vedere queste foto, però trovo che questo sorriso che ho riscontrato tante volte e quando Paolo era nelle collezioni veniva molto spesso, è proprio il suo elemento, diciamo così, mi piaceva chiudere con queste foto, perché queste parole, e qui proprio concludo, come i tanti lavori che Paolo ci ha lasciato in eredità, invitano a ripensare profondamente l'identità scientifica della storia della scienza, ma anche il ruolo che i musei e università devono assumere per tutelare, studiare e mettere a disposizione del pubblico le loro collezioni. E infine il tipo di formazione che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni che si avvicinano a questo tipo di studi. Paolo ha dato delle indicazioni, non solo Paolo, Paolo, Mara, perché lui condivideva e contagiava e coinvolgeva anche Anna e tanti altri, altre persone che è giusto ricordare, perché Paolo è proprio anche, diciamo, è stato ricordato, ma una delle sue caratteristiche è proprio quello di lavorare, avere la gioia di lavorare collegialmente con gli altri, non soltanto per la generosità, ma anche perché a lui piaceva anche lavorare con gli altri. Paolo ha dato delle indicazioni precise sulla direzione da prendere, ha conseguito con la sua opera risultati eccezionali e ora credo che stia nostro compito, per non onorare la sua memoria solo da un punto di vista retorico, far conveggere i nostri sforzi, continuare nei nostri sforzi per seguirne l'esempio.